Ci sono due o tre cose, prima di sviluppare i microscopi per rendere i microscopi più cari, più sensibili e più veloci. Stavo lavorando su tre cose principali. La prima, rendere questo microscopio ancora più efficace, ancora più veloce e anche più chiaro per capire ancora meglio come funzionano queste cellule valate. Secondo, sto cercando di rendere questo microscopio meno costoso e più facile da utilizzare, non dare da poterlo ritrovare un giorno in tutti gli ospedali che fanno ricerca al mondo. E poi, terzo aspetto, sto lavorando con medici che lavorano nel campo della virologia, in particolare il virus dell'HIV, il virus dell'IBS, per capire in maniera molto più rapida in che cosa consiste veramente il problema di questa malattia e intervenire più rapidamente. Quindi nello specifico solo l'ADS al momento come malattia, ad esempio non l'Alzheimer, non altre cose per cui ancora non ci sono cure. Sì, l'HIV era un esempio, collabora anche con la ricerca in medicina, in altri tipi di virus e in problemi anche neurodegenerativi come malattie tipo il Parkinson e l'Alzheimer. Grazie. 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 Grazie.